Ma questa è la lampada Andai a battere tu Io? Ma vabbè, si Ma questo è il pasto Allora ascoltami, Luca Allora, la strada ti devi mettere Luca? Un po' più in lato Ma devo fare la foto qui Eh, in teoria la foto qui Ma non vedete Vieni qua, diametemi tutti Vieni qua Vieni qua Vieni qua Non è aperto No, adesso facciamo così, io lo guardo Ok Ok Qua c'è il franzo? In due? In due In due In sicure Quindi è l'osiste E' buona Facciamo voi Allo chef? No, facciamo voi prima Vabbè Tu sei il mio principale, no? No, perché se sono due separati Così intanto mi finisco il posto Qual è il suo rosso? C'è per tutti i sensi, no? Facci dentro Vuoi avermi lavorare, eh? No, no, sei che li fatti tuoi Ok 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 Facciamo il gennaio è morto pure il gennaio è il bello allora lo vediamo più velocemente finchia da pure mai al matrimonio da morto da morto a playboy da morto a playboy finchia vediamo ora ti è spandato il muro però dai 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 ce lo lanciamo un po' si si però mi sa che lei per tappo si stacca a posto vai sei umido quindi sei ti asciugo le occhi che serve a me parla così potremmo essere ciao maio ciao farine parlate voi ditelo voi che tanto questo è il diario di bordo allora fra poco 3.5 radio su AM non mancate eh ciao vi aspettiamo con peperizzo 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 vabbè vabbè abbiamo risolto un pochino meglio puoi fare il ladro che fa le fobri guarda c'è un altro ancora tene di lucas tene di lucas una seconda spada è tipo dritto verso di me possiamo fare un maccio proprio un jingle che sta registrando Fede un jingle vero che pieno lo chef si può fare questo qua aspetta che c'è il jingle vero che pieno lo chef Fede pure tu al finale lo chef vabbè 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 mi non hai più spettata per rilassare per rilassare per rilassare te lo ricordi che è tutto quanto uno di te e noi è per il livello lo chef solidentissimo perfetto ti lascio un altro l'ultima ricetta l'ultima ricetta l'ultima ricetta del cocktail di Peppinello lo chef allora c'erano c'erano tanti tanti ingredienti e poi abbiamo consigliato gli agrumi di Sicilia giusto? di Calabria e soprattutto il il bergamotto il bergamotto perciò se avete un morto lo tagliate di Bergamo il bergamotto ok questa è una ora continuo a comprare questi cavalletti quello dei cinesi che così mettiamo tutti i fai giganteschi ora più vicino questa qua senza braccio più vicino no più vicino senza braccio deve riuscire a fudare che la sera c'è ancora? ancora? non 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Guardate la camera Abbracciatevi a tutti quanti Vincino almeno più qua Ora lo mettiamo nelle backstage Sto godi Sto godi Sto godi Sto godi C'è urdica che c'è da sto godi Bravi Ti piace la musica di Spotify? Ti piace la musica di Spotify? Ti piace la musica di Spotify? Sto godi Sto godi Sto godi Vai Ciao ragazzi devo guardare la camera di sotto? va bene così io quale camera devo guardare? tu questa qui spostati Daniele un colpo e Daniele di Domenico mettiti come ti metteresti normalmente io così metteresti guarda qui giusto da prima all'ulto la caccia di sempre infatti non sono così, io di solito mi scrivo tutto quello che dico allora sai cosa hai fatto? che mi trovo fuori meglio, è giusto? si si no infatti devi concentrarti sulle informazioni vintage vintage no faccio sì, vintage è sembra un gruppo vintage ma oggi questa cosa vuoi vuoi vedere? mi vuole sentire con le bagno no non bagno c'è la porta se vuoi è una schiavania però se lo vuoi usare mi chiedeva da un certo anno io ci voglio un caffè proprio per forza tutti quanti? ero via era a posto ci dobbiamo portare ma li sto toccando il culo? ah c'è la stufa sotto si si la dobbiamo ah ahah non ci puoi andare direttamente a porca di una troia da sutta beh ci sono due si le mie sono buone però peccato Cioè questo non l'hai registrato? Eh no, affitto alla carta C'è una carta di 2000 Kg Ma poi non ce l'hai? No, qui abbiamo la carta La carta ce l'abbiamo La carta ce l'abbiamo Allora Motore Davanti al viso Ci siamo? Partito Ciao amici, tre uomini in una radio Sono Daniel Tec Ah no, aspetta aspetta Sei partito quando lui ancora era là, l'ho sbagliato io Ok Così muovi esci Ah, rec rec Tranquillo Di nuovo Jack Jack E dopo che ci siamo ascoltati Il pezzo un po' felpato Del nostro amico di Su Alex, secondo me Non lo so, è un po' abituato con le cose tranquille Io voglio proporvi un altro brano del nostro amico Cristian Marchi Che nonostante sia di su Diciamo che ha quel sound più siciliano Più cattivello Questo è il secondo brano che... Ah ma porca puttana Stop Un po' un pezzo di luce però... Eh beh compari, la prossima volta se no... Non venga la barba, compari Andiamo a dire Motore Didi Max 2 Aspetta, aspetta C'è la barba C'è la barba Azione Bene Ragazzi Tra i due litiganti Tra i due DJ Daniel Tech Ed Alex Che saluto calorosamente Arrivo io col Vintage Fondello Ci sei bene? Yes Azione I giudici di X Factor Mika e Fedez Si sono messi assieme Anche perché ci sono delle voci particolari Su di loro Giusto? Si Nuova edizione questa Scoppiettante Quella... By... Pfff... Si per il video Eh vabbè Ci siamo? Arrivederà Vai Nuova edizione questa By 23esima Strada Film Che produrranno il format Alla grande Anche perché con Gennaro In video Vanno avanti i due Eh dai